Ok, questa è la terza continuazione. Pietro, te l'ero tu che io non lo faccio. Per chi è questa, chi è questa? Per chi è questa? Per chi è questa? Gianni, come puoi essere? Fai vedere che il signor Papa, guarda, il signor Papa, guarda. Ok, questa è la continuazione, chiedo che è da 6 prima, e ora vi faccio vedere i dolci. Quello signore là si chiama Giovanni, Aiello, e sta guardando i... cosa? Come si mangia? E sta guardando i dolci. Non mi diste, non mi diste. Non mi diste, 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 non mi diste. Fermate che è nascosto, vi faccio vedere la torta. No, no, ma io non, mangiare pure quello che ho messo. Vediamo se si vede che è sotto, che è sotto. Ok? Non è che... Oh, che è sotto questa? Ma dopo vai a vedere tutto, che ora non la posso scacciare. Io non lo faccio vedere. Aspetta che apre a... Quattro... E se ha lappine a su, si vede così, lo ponetrè a su una... Ho una... Non mi diste, non mi diste, non mi diste. Emo più 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 più. ok e qui sta la torta sta in tasca ancora non lo potete vedere proprio tutto comunque si vede abbastanza adesso pochettino che si sta facendo è molto finissimo